bella ragazzi qui giuse come potete vedere siamo su ser... siamo su sergent se volete e prima di iniziare volevo farvi vedere che le... la... ehm... uniti... guardate ehm... ok... ok riproviamoci quello che volevo dire che cazzo fa... quello che volevo dirvi se si gira per... porco due... ecco come potete vedere quelli del... gli sviluppatori del gioco qua ovviamente si sono... poi non so se è vero eh dovrò andare a vedere... si sono... sponsorizzano da soli ehm... come potete vedere facebook, twitter ehm... tutti tipo gli hashtag per twitter ehm... si... affancucola va... porco due... stavo rimaltando il gioco tutto... allora... io come... come potreste capi... cazzo... chi è? eh cazzo... dia notizia dottore... raga mi sto facendo i trofei così a cazzo... mi piace troppo a cazzeggiare nella home... vabbè... allora ma se io prendo questo disco dove me lo metto in culo? cioè non so... allora... oddio... magari qua... porco... no? evidentemente no... ma perchè non ho tutte le cose aggiornate che cazzo... vaffanculo rischio dei poveri... cosa c'è qui dentro? un anello? cos'è sta roba? boh vabbè è finito... allora... tanto... ah... trofeo... lanciando sto cosa qua... ti da un trofeo... eh eh... spoiler... lanciando sto cosa qua ti da un altro trofeo... poi non lo so... poi lanciando questo ci da trofei? no... non ci da un cazzo di niente... lanciando roba a caso non ci da niente... ok... spaccando il monitor... boh... tiriamo un pugno... ok... prendendo sti cosi qua non si possono sfogliare... aspetta che ti guardo... non credo... perfetto... mi sa proprio che non si possono sfogliare... il tazzo... spacchiamo la tazzo... si... l'orologio... sti cazzo... intanto è un orologio tarocco l'ho preso da cinese... allora... ok... allora la cosa figa di questo gioco è che la mano... non muovo con il 2 shock... voi li non potete vedere perchè non avendo la... eh... webcam... eh... non vedete mai che faccio il cuione che... cazzeggio con il 2 shock in mano... ok... intanto che carica... io mi guardo Whatsapp... no scherzo... ok... qua caricato... prendiamo... eh... sto coso... ragazzi vi presento Bob... se non ci credete che si chiama così... andate a vederne l'home... eh... allora... io non so bene giocare eh... ve lo dico subito intanto... ve lo dico subito... allora se tu... eh... non muori... prima di tutto devi... rifare questo... su... 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 merda... allora... allora... scusate per la voce mi sono... ma mi sono appena svegliato intanto il 2 shock con questa bella cosa... no... 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 vabbè vabbè lasciamo... lasciamolo... eh... eh... le... si deve togliere da cazzo sto coso... tanto... giriamo il 2 shock con i poveri... no... no... ti ch Aku ha Gett Expert... capintana... oh.... ah un poverà hai due o... eh, sono uscita... ho... no... me tu ne faccio un coooon tutto... Tutte queste osse devono merda Oh Perdi sto polmone Ma che si è impedito? No, no Ma cazzo Porco due Oh vaffanculo Porco questo Ok faccio la La battle flip challenge Provo eh Magari non così Tazza della minchia Allora battlefield channel No porca puttana Vabbè Non fa niente Ci riproverò Allora Adesso Porca puttana Magari senza Allora perfetto Non si fa le bordelle Porco due Non ce la posso fare In quale fisica Ti curo con Il coltellino volante Taglia sta merda Allora Allora Ce la posso fare Anderà bene se toccarsi Il coltello Tutorial come Non curare Un paziente Allora Oh che cazzo L'ho fatto Non tagliamo tutto Bene il cuore Taglia Mette Ha tagliato tutto Ma non il cuore Allora Stavo morito Ma non devi morire Non devi morire Non devi morire Per culo Ok Perfetto E intanto Si ho perso il coltello Ma Pogliamo sta merda Di cosa Che non so neanche Che cazzo serve Penso che si Ah si è Tipo l'intestino Collegamento All'intestino Penso Penso Non lo so Allora Porco due Ti devi Ti devi togliere Porca Toglia Allora Prendiamo un altro Buongiorno No Ok Devo tagliare il cuore Talla Toglia Ma non taglia un cazzo Perché Queste cose Sono dei Malocchi Allora Sono cose tarocche Allora Porco due Ma se la puoi fare Tagliare un cazzo Di qua No Ok No 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 Mi sono drogato Si Allora Solo che per curarmi Ok Serviva quella Quella puntina Qua blu Allora Salva un cazzo Questo Che di Fil del cuore Devo tagliare Raga Mi sa che Non riuscirò Andare male avanti Allora Facciamo che mettiamo Questo Questo Dove l'ha messo Non facciamoci domanda Spacchiamo Sto pezzo di Fosso Non sa che cos'è Ma sto pezzo Un cazzo Però Invece si Invece si Ok Non ho più niente Per fermare Per fermare L'emorragio Perfetto Possiamo dire Che sono Nella merda Ok Ho poco tempo Adesso Per curare Questo Paziente Perché Cazzo Si fanno Una volta Perché Mi mettono Come tutorial No Come fanno In realtà Ti mettono Le manichie Di limbrare Come un broco Si 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 Benissimo 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 Tu hai sta merda Via 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 No Api No no Non ci credo Porca puttana No Prata Prendiamo War così E lo infiliamo Così Ma cazzo Si 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 Operazione Comunitata Ok Ok Aspetta Mi sembra tutto il posto Sono certo che Viverà Si Proprio Allora A livello Sangue Ok E niente Ragazzi Ve lo farvi vedere E' un po' Come giocavo Si Perché io Sto provando Da su E niente Scusate Per la voce ancora Mi sono appena svegliato Comunque E se vi è piaciuto Lasciate un pollice in su Non posso farlo Vabbè Fate finta che c'è un pollice in su Commentate Condividete Iscrivetevi al mio canale Qui a giù è tutto E Aspettate Ragazzi No Che cazzo Vabbè Solo che Prima o poi Non riescerò a fare E Niente Bella Un appena C'è un po' C'è un po' Più Uno